Salve, mi chiamo Gianfranco Marini e in questo video tutorial mostrerò come è possibile costruire un percorso didattico utilizzando le risorse messe a disposizione da Rai Scuola. Digitando Rai Scuola su Google ci possiamo collegare al sito di Rai Scuola, eccolo qui. Occorre registrarsi per poter accedere, è molto semplice la registrazione e adesso accederò attraverso Facebook. Ecco qua, siamo entrati nella sezione che ci consente di realizzare la nostra lezione in tre mosse. Prima di vedere come si realizza la lezione, vediamo qual è il risultato finale per capire meglio il tipo di lavoro che andremo a fare. Ecco, questa è una lezione sul congresso di Vienna realizzata da Giuseppe Corsaro, formata dal seguente percorso in 8 step. in cui abbiamo dei video che sono disposti dall'autore nel modo più opportuno e che sono offerti agli studenti in modo da fornire un approfondimento, materiale per il ripasso o comunque risorse aggiuntive a supporto dell'attività svolta in aula e che poi gli alunni svolgono a casa. Come vediamo possiamo votare questa lezione, possiamo passare da un elemento a un altro, possiamo attivare il video che ci viene proposto, eccetera, eccetera. Ora, il tutto, questa è la parte conclusiva, vediamo un link a Wikipedia, non ricordo mai l'accento, ecco, l'inizio è un'introduzione con un'immagine scritta dall'autore, in questo caso Giuseppe Corsaro. Vediamo adesso quali sono i passi per costruire un percorso didattico, è molto semplice, torniamo in questa pagina, clicchiamo su Crea la tua lezione. Si apre la seguente schermata, possiamo, abbiamo qui una superficie bianca, dobbiamo dare un titolo alla nostra lezione, Pippo, scegliere una materia tra quelle qui presenti, filosofia, e dare una descrizione, cosa pensa Pippo di Topolino, per esempio. Naturalmente la descrizione dovrebbe essere molto più lunga e completa e presentare sinteticamente il tipo di percorso che vogliamo offrire ai nostri studenti o ai nostri visitatori. Bene, a questo punto dovremo inserire il materiale, fondamentalmente si tratta di video. Per vedere come procedere possiamo utilizzare l'help, il punto interrogativo, cliccando qui ci viene suggerito di inserire un titolo, di inserire una materia, un ordine scolastico, una descrizione, e a questo punto di salvare. Andiamo avanti, possiamo scegliere in questo menu, o digitando dalle parole chiave, trovare dei contenuti, in questo caso cercheremo Pippo e Topolino. A questo punto possiamo trascinare i contenuti nello schermo, in questo modo, nella superficie vuota che abbiamo. Abbiamo concluso e salviamo. Non abbiamo ancora pubblicato la nostra lezione, adesso usciamo dalla demo, ecco, siamo arrivati a questo punto. Oltre a inserire video dalla ricchissima biblioteca, videoteca della RAI, possiamo, come vedete, utilizzando queste linguette, accedere ad altri menu, per esempio accedere a YouTube. In questo caso stiamo cercando video su YouTube, Pippo, e su YouTube troveremo tanti video, mettiamo ad esempio Pippo il dormire, Pippo è l'arte dell'autodifesa. Possiamo anche procedere in un altro modo, possiamo andare su YouTube, io l'ho già fatto, e cercare direttamente su YouTube. Abbiamo trovato questo video, Pippo il ballo, lo inseriamo, usando non questo link, ma lo short link, che è più corretto. Selezioniamo, copiamo, e incolliamo qui. Ecco qua, ce l'ha trovato, e inseriamo anche questo. Abbiamo quattro video, il nostro percorso quindi è formato da una video iniziale, questo, a cui seguono altri video. Possiamo cambiare l'ordine di questi video, semplicemente cliccando e trascinando. Possiamo cambiare la copertina, cliccando sullo strumento modifica, questa è l'immagine della copertina che è selezionata automaticamente dal primo video. Scegliamone un'altra, per esempio Pippo, ecco qua, che non riesce a dormire, mi sembra. Bene, possiamo procedere ancora, per esempio, cliccando questa terza linguetta col simbolo di Wikipedia, possiamo cercare Pippo su Wikipedia, e trasciniamo anche questo. Ancora Pippo Caruso, Pippo Del Bono, andiamo a vedere qui. Qui possiamo caricare un documento che abbiamo precedentemente preparato dal nostro PC, io adesso a caso inserisco questo, e il documento, diamo una breve descrizione del documento, e lo carichiamo. Terminata l'operazione di Upload, o caricamento, il documento ci apparirà qui sulla destra, lo trasciniamo e lo inseriamo nel nostro percorso. A questo punto dobbiamo decidere, e adesso rimpicciolisco in modo che possiamo vedere, ecco i documenti che abbiamo inserito, possiamo decidere come ordinarli, per esempio questo Pippo lo mettiamo più su, e vediamo l'ultima possibilità che ci rimane, inserire direttamente un testo, cliccando qui, ecco vedete, appare, non l'avevo vista, appare quest'altra scheda, qui scriveremo il nostro testo, adesso io scrivo a caso, diciamo che con questo testo abbiamo concluso la nostra operazione di raccolta dei materiali, le abbiamo ordinati come volevamo, a questo punto possiamo salvare e pubblicare, io adesso la pubblicherò, con questa lezione di prova, ecco qua, la pubblicazione è stata effettuata. Per vedere se tutto ha funzionato regolarmente, vado a cliccare sul menu, le mie lezioni, ecco qua, una lezione sulla storia mondiale nazionale, non so cosa sia, ah sì, sulla crisi del 29, e quest'altra lezione è quella su Pippo, clicchiamoci e vediamo come comparirà la lezione a chi la visiterà. Ecco qua il percorso che abbiamo costruito, possiamo saltare da un punto a un altro, possiamo votare, possiamo condividere nei principali social network, questo è il menu per gestire le lezioni che ho già creato, crea una lezione, tutte le lezioni, cioè tutte le lezioni anche quelle che non ho creato io, che sono qui e che possono essere cercate attraverso un nome, selezionando poi le materie, eccetera, qui torno alle mie lezioni, qui alle lezioni preferite, non ce n'è nessuna, e questo mi dà l'elenco delle lezioni più popolari. Bene, questa visione rapida di come funziona la Rai Scuola è conclusa, spero di essere stato chiaro, buona giornata a tutti.